Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio mostrarvi in anticipo di un giorno come completare la sfida trova gomitoli a gatto grill che sarà disponibile da domani. Ve la mostro oggi in anteprima, anche se i gomitoli ancora non ci sono, però vi posso mostrare la posizione di dove trovarli perché domani, come sapete, ogni settimana quando ci sono le nuove sfide tutti si fiondano nello stesso posto e quindi succede un casino. Mostrarvi la sfida domani è un po' complicato perché tutti si fiondano lì, ti ammazzano, non ti danno la possibilità di fare la sfida e così via dicendo. Allora, tutto quello che dovete fare è scendere prima di tutto a gatto grill perché la sfida si tiene lì. Quello che dovete fare è di trovare i gomitoli e interagire con gli stessi. Ripeto, i gomitoli in questo video non ci sono, ci saranno giovedì, domani, quindi voi raggiungete questi luoghi che vi mostro e troverete al 100% i gomitoli. Il primo si trova qui, ora non è ancora presente, ma si trova qui, vedete, a gatto grill, qui praticamente, e gli altri e due si trovano qui. Potete fare la sfida in qualsiasi modalità. L'altro gomitolo si trova qui, proprio sotto la telecamera di sicurezza che adesso non c'è perché non sto giocando nella battaglia reale classica. E il terzo e ultimo gomitolo si trova praticamente in questa stanza, qui. Lo trovate praticamente qui. I gomitoli sono enormi, sono grossi, quindi non potete sbagliarvi. Ricapitolando, il primo lo trovate qui, il secondo e il terzo lo trovate qui, quindi non potete assolutamente sbagliarvi.